e via gara iniziata in questo momento potrebbe essere anche in cambio modulo questo 352 sempre 352 dici però con patrick esterno a destra 4 4 2 camuffato questo momo ha dato una momo ma la va a passare sta palla ma che è bravo che ricomincio il break di sergei che cosa l'accarezza la palla fuori aria peregna gente cerca di far correre la palla dai lazio mini in cui c'è palla fantastica per murici stop è meraviglioso murici palla e mezzo la palla nel cross tranquillo non la butta via parolo però sa palla era nostra ha fatto come gli pare attenzione miracolo di reina tangolo per il toro attenzione pareggio del toro però io aspetta un po io ho visto fallo su sto aspetta un po ha pareggiato il toro però resta sempre mera pareggiato però resta sempre il fatto che abbiamo regalato noi l'angolo per quella superficialità nel buttare via la palla con acerbi il cross non ci credo se è magnato sta grande pelotti pelotti uno contro uno colis felipe bello se è buttato se è buttato non ricordi dice l'arbitro ricordi dice l'arbitro addio simulazione l'ammonito pelotti non è ricordi non è ricordi vanno nido ma dai ragazzi no 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 non lo dà non lo dà non lo dà non lo dà impossibile ho visto male tre volte ho visto male tre volte il replay oppure è il vario che non ci capisci non ci credo gliel'ha dato ha fischiato non ci credo non ci credo gol del torino reina l'aveva pure toccata con i piedi gol del belotti ragazzi sono senza parole ma ma che fa fa res ma che fa che ragazza ragazzi fa res assolutamente assolutamente nullo questa partita la vinciamo lo dico adesso al 26esimo del primo tempo dico che la vinciamo ha preso la palla non è fallo ha preso la palla gioca piagnone prendere palla ancora lazio correa pereira palla alta se dai che c'è a cerbi e te porta via l'uomo fa res prova il cross dall'altra parte patrick lo stop in aerea di ricordi poi così ecco che la bocca così sta prende palla patrick fa una cappellata delle sua perché segrete e s'allunga la palla e se la portata solo giallo hanno capito che questo appena che appena te butti per terra non sa che fare c'è il bar c'è il bar c'è il bar c'è il bar è più ricore questo che quell'altro ragazzi e questo puntualmente perché la va a compensare consapevole del fatto che ha fatto una cappellata prima ma non dà un ricore che da quello che abbiamo visto era clamoroso per il torino ancora patrick patrick prova a verticalizzare è una palla lenta patrick è una palla lenta patrick nemmeno un passaggio più facile riesce a fare alle sono le 15 e 55 ve lo faccio vedere subito vedete lo vedete rigirato però sono le 15 e 55 siamo in eh durante la la pausa di lazio di torino lazio perché la lazio sta perdendo uno a due a uno in maniera clamorosa a torino perché io sono sicuro di una cosa la lazio vince questa partita c'è tutta addirittura il milinkovic sulla palla siamo giunti al quarantasettesimo anzi quasi quarantottesimo del secondo tempo vediamo chi parte parte milinkovic e segna gran gol di milinkovic porto bene che gol di milinkovic savic c'è una partita vediamo un po' intanto Gianluca ha deciso di fare la gronaca a lui noi la vediamo qua punizione per la lazio sulla palla il sergente il tiro e c'è il gol il gol del sergente il gol del sergente porca Eva si andiamola a vincere 2 a 2 dai andiamo a vincere questa partita andiamo a vincere questa partita ragazzi c'è sto a capire una mazza belotti belotti palo che botta che botta ragazzi ripel cross di Luis Felipe ci provi lì palastra lì a qua a qua tiro mamma mia salvataggio sulla linea per immobile oddio oh abitro no non ci credo un rigore clamoroso non dato da lazio tonica che spinge abbiamo tutto noi tutto noi abbiamo a qua in mezzo a tre a qua oh oh oddio che brutta palla no no non ci credo attenzione no no ragazzi gol del torino non ci credo quello che è successo non ci credo quello che abbiamo fatto non ci credo quello che abbiamo fatto non ci credo immobile sempre palle pericolose immobile scarica bene per Patrick immobile ma no ma no arbitro immobile arbitro calcio abbiamo visto il fallo di mano ancora lazio il cross in area di rigore ragazzi c'è calcio di rigore era boni ha detto boni le gambe inventate niente ma no calcio di rigore la parata oh ma che state a fa la parata l'arbitro è toccata pure l'altro calcio di rigore calcio di rigore dai però va detta la verità il rigore è difficilissimo da dare Fabricio è infallibile dal dischietto lo segna lo segna lo segna lo segna gli butta giù la porta gli butta giù la porta ma Ciro non lo ferma nessuno sono sicuro dai Ciro dai Ciro tiro tiro ma non ci lo pensa proprio ma tu volete andare pure la vittoria voi la ti prende cioè sto a capire una mazza la che viene rimpallata dal Torino lei va a prova a sgomitare punizione su lei ma oh qua devi ammonire arbitro vai a giocare dai la zietta che me lo sento palla e mezzo all'area di rigore attenzione ut Kaiseto Kaiseto la palla sta là Kaiseto 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 L'Evittoria 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 C'è sto a capire una mazza OOOOH OOOOH OOOOOOH OOOOOOH E' la finita!